salve a tutti ragazzi e benvenuti su late gaming benvenuti in questo nuovo video in cui voglio parlare del crogiolo di destiny 2 e più nel dettaglio come avrete letto anche dal titolo spiegare un po per quali ragioni il crogiolo di destiny 2 a oggi non mi diverta affatto è da un po di tempo in realtà che volevo portare un video di questo tipo ma mi sono imposto diciamo così di raggiungere qualche ulteriore traguardo prima di portarlo e soprattutto di spenderci qualche orette in più quindi ho voluto attendere un po che arrivasse la regina dei sussurri per le nuove armi che incominciasse la stagione dei rinati quindi poi con le attività come standardo di ferro e prove di osiride nuovamente in rotazione con eventuali modifiche e dopo un paio di mesi eccoci qui l'ultimo traguardo personale se così vogliamo definirlo che ho raggiunto è stato settimana scorsa quando c'erano le prove di osiride con la playlist indipendente riuscire a raggiungere il faro chiaramente alcune partite le ho giocate discretamente altre sono state semplicemente oscene però il mio obiettivo l'ho raggiunto voluto dimostrare a me stesso che comunque i pollici tutto sommato li avessi ancora la verità però è che nonostante la gioia di raggiungere il faro e quindi ottenere anche dell'equipaggiamento non mi sia veramente divertito così come nelle settimane precedenti non mi sono più di tanto divertito a giocare il crogiolo occasionalmente per le attività rituali o lo standardo di ferro per completarne le taglie e questo poco entusiasmo se così vogliamo definirlo non è una cosa recente ma sono diversi anni ormai che va avanti così e parliamoci chiaro parte del problema sono chiaramente io non avendo più tutto il tempo che avevo prima per dedicarmi anche ad esempio al crogiolo e da sé che le mie prestazioni ne hanno risentito e di conseguenza ciò porta anche a divertirmi in un certo senso meno su questo punto non ho alcun dubbio le ragioni però secondo me sono anche molte altre mi basti pensare a destini 1 anche al primo periodo di destini 2 dove mi divertivo a giocare al crogiolo anche con armi totalmente a caso per raccogliere qualche clip e portare poi le varie recensioni delle armi una tipologia di video che era in assoluto tra le mie preferite da produrre che se avessi tempo manderei avanti con la stessa frequenza con cui facevo ad esempio nel 2016 o 2017 ma che in realtà so benissimo che per tre quarti delle armi non interesserebbe a nessuno incluso il sottoscritto anche se devo dire che mi è piaciuto preparare il video del grande overture che trovate già sul canale e altri video che vedrete mi auguro presto nelle prossime settimane in ogni caso il punto è che anche giocando con armi totalmente a casaccio per provarle un po trovavo del divertimento così anche come nelle prove di osiride a me piaceva giocarle ogni settimana mi ricordo anche che portavo i video su ogni singola mappa provando a dare la mia opinione su qualche strategia qualche movimento consigliato per provare a ottenere un vantaggio sul team avversario tutti i contenuti che a me piaceva produrre questo sì ma che nascevano anche da un mio apprezzamento nei confronti del crogiolo mi piaceva giocarci mi dava soddisfazione questo però anche perché ero più o meno un giocatore decente ottenevo i miei bei risultati e mi trovavo a mio agio con le dinamiche di gioco presenti e questo qui è un fattore fondamentale perché oggi non avverto più la stessa familiarità come dicevo prima ho perso un po del mio smalto mi sento estremamente vecchio dirlo ma la realtà è questa non potendo più dedicare al gioco 3 a 4 5 ore al giorno chiaramente i miei riflessi ne hanno risentito e con le varie armi non ho più la stessa padronanza che avevo anni fa di conseguenza i miei risultati non sono ugualmente positivi e su questo punto in fondo non c'è nulla di male la vita va avanti ci sono altre priorità bisogna semplicemente accettarlo e non far sì che questo diventi un punto frustrante a non piacermi particolarmente però è il meta attuale e non parlo di armi utilizzate che siano fucili a pompa fucili di precisione fucili a fusione o cose di questo tipo perché quelle cose lì cambiano una semplice patch può distruggere completamente il meta tra parentesi qualche giorno fa bungie ha proprio pubblicato un anteprima dei futuri cambiamenti al sandbox che arriveranno con la stagione 17 e successivamente con la 18 cambiamenti interessanti non ho portato un video riepilogativo perché intanto bungie lo tradurrà in italiano e sarà sicuramente più preciso ma magari porterò un mio video opinione qualcosa di questo tipo però chiusa questa parentesi il meta inteso come armi da utilizzare cambia quindi quello non è troppo un problema non mi piace però troppo lo stile di gioco che si deve adoperare per giocare contro certi giocatori e ci tengo a sottolineare non dico che sia sbagliato perché assolutamente non è così dico soltanto che non è più uno stile di gioco con cui io personalmente abbia familiarità e in certe occasioni non apprezzo particolarmente la frenesia che c'è quando si vedono ad esempio i guardiani scivolare per 25 chilometri volare come se avessero le ali sparare praticamente a occhi chiusi tutti questi aspetti qui non mi entusiasmano particolarmente perché non è uno stile di gioco che a me personalmente piace adottare adesso chiaramente erano soltanto esempi ed erano palesemente esagerati sono certo però di aver reso molto bene il concetto è uno stile di gioco che ammetto mi piaccia da guardare se ad esempio apro un video di z raptor cavolo mi piace vedere un bravo giocatore nel crogiolo ottenere centinaia centinaia di kill ma è uno stile di gioco sono dei ritmi dietro i quali io non riesco più a stare e ripeto mi sento incredibilmente vecchio a dire questa cosa qui poi parliamoci chiaro giocando in quick play se no un giocatore ogni mille si muoverà con questo dinamismo la maggior parte dei giocatori sono ancora bene o male al mio livello quindi scontri un pochino più tranquilli e cose di questo tipo qui quindi bene o male si riesce ancora a giocare in maniera decente però ammetto ogni tanto contro alcuni giocatori di sentirmi completamente fuori posto ed è un aspetto che un po negli anni ha tolto il divertimento secondo me al crogiolo il secondo punto riguarda invece le novità parliamoci chiaro non penso che il problema siano le modalità perché intanto so già che continuerai a giocare a scontro o a controllo così come non penso che siano le ricompense perché effettivamente ce ne sono ma in generale in crogiolo si utilizzano anche le ricompense che si ottengono fuori da esso quindi questi due aspetti qua mi interessano veramente poco quello che mi dà incredibilmente fastidio e non penso di riuscire a enfatizzare quanto mi dia fastidio effettivamente è l'assenza di mappe nuove sono forse tre anni che non vengono introdotte nuove mappe e personalmente mi sono rotto anche un po le palle di giocare sempre sulle solite mappe alcune delle quali addirittura risalenti a destiny 1 per metterla nella giusta prospettiva oggi nel 2022 mi trovo a fare partite nel crogiolo su mappe in cui giocavo nel 2015 prima ancora che mi diplomassi alle superiori non so se questo semplice esempio riesca a esprimere adeguatamente il mio stato d'animo attuale ci sono alcuni giochi in cui le mappe non devono cambiare perché semplicemente ben fatte basti pensare a dust 2 su counter strike o a molte delle classiche mappe di halo che possono benissimo rimanere invariate e a nessuno interesserà mai in un gioco come destiny però in continua evoluzione una mappa adatta allo stile di gioco di sei anni fa non è detto che funzioni anche oggi in più alcune mappe personalmente le schifo con tutto me stesso tipo breccia nel crepuscolo è una mappa che davvero non riesco a tollerare la odiavo su destiny 1 la odio su destiny 2 la odierò anche su destiny 1000 però a parte questo la mancanza di nuove mappe inizia veramente a pesare le partite iniziano ad assomigliarsi tutte tra loro e preferirei francamente avere nuove mappe seppur orrende piuttosto che continuare a giocare in quelle esistenti e questo qui è il secondo grosso fattore che mi porta a non divertirmi più di tanto nel crogiolo l'assenza di vere novità dal punto di vista delle arene di gioco ragazzi questo qui voleva essere un po' un video sfogo sono sicuro il 100% che molti altri di voi si troveranno nella mia stessa situazione è un gioco che comunque va avanti da 8 anni e le vite possono cambiare parecchio in questo lasso di tempo dopo lunghe riflessioni quelli esposti negli ultimi minuti sono i motivi principali per cui secondo me non riesca più a divertirmi come un tempo nel crogiolo mentre tanti anni fa ci avrei tranquillamente passato le ore e probabilmente mi sarei divertito anche tanto come ho detto parte del problema chiaramente sono io una parte però secondo me riguarda effettivamente lo stato del gioco e spero francamente che bangi quantomeno con la prossima espansione ricominci a dare il giusto peso pure al pvp ragazzi da parte mia è tutto come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione e vi invito ad iscrivervi se ancora non l'aveste fatto lasciarmi un mi piace un commento con la vostra opinione e noi ci sentiamo la prossima ciao a tutti ragazzi